Cos'è la piadina per te? Per noi è un atto d'amore. Stendiamo, cuociamo e farciamo il nostro impasto artigianale solo al momento del tuo ordine. Le nostre box termi che le conservano calde e fragranti apposta per te. Per noi è importante farti gustare le nostre piade come appena sfornate. Arriviamo a casa tua rapidi e veloci. Sette giorni su sette, sia a pranzo che a cena. Per regalarti un momento di pura gioia con le persone che ami. Cos'è quindi la piadina per te? Se non è già amore, lo sarà il primo morso. Unica, inimitabile, piada piame.